Buongiorno, in questa lezione dopo aver messo le basi di quello che è la cittadinanza digitale dal punto di vista teorico, cercheremo di guardare quali sono gli strumenti effettivi di questa cittadinanza digitale, cioè una pubblica amministrazione che vuole essere attenta al cittadino e vuole semplificargli la vita, che strumenti ha? Per far questo ci rifacciamo a un documento uscito alla fine maggio, inizio di giugno del 2017, quindi relativamente da poco, che è il piano triennale dell'informatica nella pubblica amministrazione, si chiama, il termine farà brividire perché ormai nessuno più parla di informatica nella pubblica amministrazione, però il termine deriva da una legge di qualche anno fa e quindi glielo concediamo questo titolo e il piano triennale disegna uno schema, un percorso dell'amministrazione pubblica. Questo percorso dell'amministrazione pubblica parte a strati, lo dobbiamo immaginare come una casa. Questa casa ha diversi piani, li vediamo rapidamente, il primo piano è il piano delle infrastrutture fisiche, quindi sono i data center, sono i collegamenti fisici, la connettività fisica, senza la connettività fisica ovviamente non si fa pubblica amministrazione digitale, le amministrazioni diventano le monadi e tutto il tema del cloud e questo è un primo strato. Un secondo strato è quello delle cosiddette infrastrutture immateriali, che cosa sono le infrastrutture immateriali? Sono quelle cose che non sono infrastrutture perché non portano a fare azioni di una politica verticale, non stiamo parlando di sanità o di ambiente o di trasporti, ma stiamo parlando in maniera trasversale di tutta la pubblica amministrazione, ma sono appunto dei facilitatori della cittadinanza digitale. Ne cito qualcuno perché su questo andremo poi più a profondità, sono il sistema pubblico di identità digitale, l'anagrafe nazionale della popolazione residente, i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione, il ciclo della fatturazione nella pubblica amministrazione, la sanità digitale e il fascicolo sanitario elettronico. Non andremo a fondo di ciascuno di questi perché il tempo non sarebbe sufficiente, ma li guarderemo poi dettagliati uno per uno. Tornando al nostro schema, sopra lo strato delle infrastrutture immateriali esiste lo strato dei modelli di interoperabilità, cioè quali sono le regole per cui le pubbliche amministrazioni usano SPID, usano PagoPA, usano NPR, usano fatturazione elettronica per parlarsi tra di loro, devono stabilire le regole. D'altra parte se voi pensate al nostro Bancomat, il nostro Bancomat non è un sistema fisico, non è che passa i nostri soldi, passano dalla nostra banca alla banca da cui ci rivolgiamo quando siamo da un'altra parte attraverso un sistema fisico, passano attraverso un sistema di regole e un sistema di reciproco trust, quindi attraverso una procedura sperimentata si fida di un'altra banca, noi ci fidiamo di tutte e due e mettendo la nostra testa riceviamo i nostri soldi. Questo sistema non è altro che un sistema di regole, esattamente lo stesso sistema di regole è quello dell'interoperabilità nella pubblica amministrazione, girano le informazioni attraverso delle regole condivise. Sopra questo il quarto strato è uno strato di ecosistemi verticali, qui sono davvero i servizi, in questi ecosistemi verticali si sta parlando delle politiche di ciascun servizio della pubblica amministrazione, quindi stiamo parlando della sanità piuttosto che della scuola, del welfare piuttosto che delle politiche ambientali, della giustizia o del turismo, dei trasporti o dell'agricoltura, eccetera, eccetera, eccetera. Ciascuno di queste politiche verticali è innestata di questo settore verticale che noi chiamiamo gli ecosistemi verticali, sono innestati attraverso le regole dell'interoperabilità nelle infrastrutture immateriali che a loro volta sono permesse nelle infrastrutture immateriali. Sembra complicato ma è molto facile, pensate a una casa, le infrastrutture immateriali sono le fondamenta della casa, senza le fondamenta la casa non c'è, quindi qui senza cloud, data center e connettività non c'è la casa. Sopra quando andiamo a costruire un primo piano fatto di una hall grande in cui ci sono gli strumenti, le porte per entrare dappertutto e sono il tema delle infrastrutture immateriali, poi ci sono le regole per salire e poi ci sono i piani, ogni piano e ogni ufficio in questo palazzo di uffici ha la sua politica che ovviamente però spoggia sulle stesse fondamenta, accede attraverso le stesse regole e usufruisce degli stessi servizi comuni. Accanto a questo palazzo ci sono due grandi pilastri che lo reggono, da una parte il pilastro dei dati, la pubblica amministrazione non può funzionare senza un processo di raccolta e di analisi razionale dei dati e dall'altra c'è tutto il tema della cyber security e della sicurezza che ci garantisce che questo nostro palazzo non sia assaltato dai pirati e che quindi il nostro tesoro informativo rimanga a disposizione di chi deve rimanere e non sia in qualche modo invaso. Se questo è il palazzo torniamo al nostro strato delle infrastrutture immateriali e vediamole rapidamente tutte e cinque. Le vediamo da questo punto di vista, dal punto di vista della cittadinanza digitale, quindi non sarà tanto il mio una presentazione tecnica su cui magari ci sono altri appuntamenti, ma cosa fa questo per permettere la cittadinanza digitale? Il primo è Speed, Speed è il nostro telecomando, se volete immaginare Speed nella nostra vita quotidiana pensato dal telecomando davanti alla nostra televisione. Il telecomando in sé è un oggetto piuttosto stupido, non ci permette, ci dà accesso, ci autorizza a ricevere un certo tipo di informazione, un certo tipo di programmi da quell'oggetto che abbiamo davanti che è la nostra televisione. Allo stesso modo Speed, che è anche lì un sistema di regole immateriale, quindi non è la carta di identità, non è un sistema legato a un documento, ma è uno strumento immateriale di regole, dice solo che il signor Ypsilon, che è un identity provider, cioè qualcuno che si è impegnato a essere affidabile nel garantire un'identità, che è un identity provider, ha visto che io sono io e quindi mi ha attribuito un accesso al sistema pubblico di identità collettiva, di identità digitale che mi identifica in questo sistema perché qualcuno di cui ci si può affidare mi ha identificato, normalmente si fa in presenza, in alcuni casi si può fare in assenza quando hai già una tessera, già hai avuto una forma di identificazione che è arrivata da altri sistemi o perché in alcuni casi alcuni identity provider ormai lo fanno già su internet attraverso le telecamere perché poi in pratica quello che devi fare è una forma di riconoscimento, quindi si può fare sicuramente in sistemi anche remoti. È interessante dire che è partita un po' rilento, ma attualmente abbiamo circa un milione e mezzo di identità già rilasciate, quindi questo sistema sta funzionando. Funziona quando? Quando la gente ne trova la convenienza, cioè funziona solo se i cittadini trovano convenienza ad avere un'identità speed e trovano convenienza se questo gli rende più semplice fare alcune cose, quindi abbiamo avuto un grosso incremento quando i ragazzi dovranno avere il bonus dei 18 anni della politica pro giovani del governo Renzi e quindi per accedere a questo bonus dovranno accedere attraverso speed o quando i professori dovranno accedere attraverso speed per avere un voucher, questo voucher culturale che avevano diritto ai professori, cioè quando noi abbiamo creato delle stanze appetibili di cui speed faceva la porta. Qual è il prossimo passaggio di speed? Che anche le nostre ferrovie, che se mi devo iscrivere a Airbnb, se devo messere sulla mia banca, se devo iscrivermi alla biblioteca comunale, posso usare sempre e comunque lo stesso accesso e non debba ogni volta ricominciare da capo, se no se io devo avere attualmente io in tasca penso di avere sulle 14-15 tessere, tre varie e nel mio keeper, che è il mio portafoglino sul computer, c'è una trentina di identità digitali, di pinne di identità digitali, se non mi risolve questo problema speed dubito che avrà grande successo. L'anagrafe nazionale della popolazione residente è un'anagrafe che come dice il nome, che prende tutti i cittadini italiani legandoli in un unico repository, abbiamo tutte le identità dei cittadini italiani che poi saranno replicate in ogni comune, perché poi ogni comune deve avere la sua, ovviamente deve farci i lavori che deve farci, ma ci sarà un posto in cui ogni cittadino italiano potrà sapere che la sua identità è in un posto unico con regole comuni. Il terzo strumento è quello del pagamento della pubblica amministrazione, ci sono già ormai tantissime, quasi due milioni di transazioni già eseguite, la pubblica amministrazione per ricevere un pagamento ha uno strumento automatico e facile, con un'interfaccia molto facile, molto mobile orientata sul mobile, che permette di avere dei pagamenti che hanno un doppio vantaggio, rendono più facile la vita al cittadino, ma soprattutto rendono più facile la vita all'amministrazione, che una volta che riceve un pagamento ne ha un immediato monitoraggio, immediato, invece di dover aspettare che arriva il conto corrente e poi dopo la posta deve comunicargli che il conto corrente sia stato accreditato, eccetera, eccetera, ce l'ha immediato e c'è un immediato controllo anche dell'attribuzione di questo pagamento nei vari capitoli, invece di rischiare di perdersi all'interno dei meandri dell'amministrazione pubblica. La fatturazione elettronica è un altro tema fondamentale, ormai la pubblica amministrazione non accetta più nessun tipo di fattura dai fornitori se non elettronica, questo ha voluto dire che in un anno e mezzo, due anni, circa 62 milioni di fatture che sono state gestite e soprattutto vuole dire che la pubblica amministrazione sta andando, non c'è ancora arrivata, ma sta andando verso uno Stato che saprà finalmente quali sono i suoi debiti, perché per adesso su migliaia e migliaia, decine di migliaia di amministrazioni che ricevevano fatture c'era un punto consolidato che potesse dire quanto la pubblica amministrazione deve alle aziende italiane. In questo momento la situazione si sta chiarendo, stiamo abbattendo l'arretrato e da adesso in poi abbiamo un monitoraggio della spesa vero e si passerà da un pagamento delle fatture medie che superano l'anno e in alcuni casi arrivano a due anni, a un pagamento massimo di 60 giorni come ci chiede l'Europa. Questi sono gli strumenti, l'ultimo strumento è il fascicolo sanitario elettronico, ma ne parleremo a parte, che è lo strumento sostanzialmente che ci permette di addire alla sanità digitale mettendo, col concetto che dicevamo prima, cittadinanza digitale, tutti i nostri dati intorno ad un unico posto dove sono soprattutto accessibili a noi. Che vuol dire accessibili a noi? Accessibili a noi vuol dire che i dati comunque sono nostri, non sono dell'amministrazione, quindi dati nostri vuol dire che per prima cosa sono dati che sono a nostra disposizione, quindi noi dobbiamo ogni singolo cittadino, sia nel fascicolo sanitario elettronico che poi più in generale nel fascicolo del cittadino ha per primo, è quello che ha accesso a questi dati, può controllarli, può modificarli, può interagire con l'amministrazione pubblica ed è una specie di vecchio faldone che c'era in ogni casa da noi con tutti i dati che riguardavano i nostri rapporti, le nostre bollette, i nostri rapporti con l'amministrazione in un unico posto, certo è aggiornato e che ci permette di avere più tranquillità e più sicurezza nei rapporti con l'amministrazione.